Quindi, riagganciandoci a quanto dicevamo prima, avevamo dei suggerimenti sui nomi da dare alle variabili, alcuni erano delle regole, nel senso che il nome di una variabile non può iniziare con un numero, non può contenere uno spazio, non può contenere degli altri simboli particolari e poi dei suggerimenti, cioè diamo dei nomi sensati, che iniziano con la lettera minuscola e abbiano le altre lettere maiuscole eventualmente dove iniziano le parole intermedie. Non è una gara a chi scrive più compatto, come invece altri linguaggi ci sembrano un po' di volerci spingere, in Python abbiamo tutto lo schermo, tutto lo spazio per poter scrivere i nomi delle variabili in modo completo. Anche perché poi vedrete che quando scriviamo all'interno dell'editor, quasi mai scriveremo il nome delle variabili, cioè nel momento in cui io scrivo tax rate, appena scrivo la T, già mi dà il suggerimento, clicco qua e me la scrive lui. Quindi non c'è nulla da risparmiare nel cercare di ottenere un valore troppo stretto, un nome troppo corto. Allora, prima di passare avanti, Cristian mi chiede se le frazioni possono essere sommate ad un intero per ottenere un float, lo vediamo tra un secondo quando vediamo la divisione, ok? Quindi se io facessi 1 diviso 3, prende un numero intero più un altro numero intero, li divide e mi dà come risultato un floating point. Ma come dicevo, tra un attimo abbiamo proprio tutte le regolette di questi meccanismi. Allora, prima di passare però all'aritmetica, quindi come fare l'operazione tra i numeri, parliamo un attimo delle costanti. In Python in realtà non esiste un vero e proprio concetto di costante. Cosa sarebbe una costante? Costante sarebbe una variabile a cui vogliamo dare un valore, ma poi questo valore sappiamo che non dovrà mai cambiare nel resto del programma. Ok, che ne so, se noi abbiamo un fattore di conversione tra una unità di misura e un'altra, beh quella lì è una costante. Il nostro caro amico pi greco è una costante. E' chiaro che non voglio ogni volta scrivere 3,14, 15 eccetera eccetera, voglio assegnarlo a un nome, a una variabile, ma so che quella variabile lì non dovrà mai cambiare. Se costruisco un palazzo di 10 piani e l'ascensore, e sto progettando il programma che gestisce l'ascensore, il numero di piani è una costante, sono sempre 10, quindi non cambierà mai durante l'esecuzione del programma. Quindi alcuni linguaggi hanno costrutti particolari per definire delle variabili che possono essere solo create, inizializzate e mai più cambiate dopo che l'ho inizializzata. In Python non esiste nessun vincolo di questo genere, non è stato inserito nel linguaggio, e quindi ci basiamo solamente su una convenzione grafica. Noi quando intendiamo creare una variabile e sappiamo che non la vorremmo mai modificare, per convenzione la scriviamo tutta in maiuscolo. Quindi il volume di una bottiglia sono due litri, ad esempio. Quindi anziché scriverlo con il camel cave, cioè in minuscolo e con le lettere maiuscole all'inizio delle parole, lo scriveremo tutto in maiuscolo e separiamo le parole, visto che non si può fare il maiuscolo del maiuscolo, con un trattino di sottolineatura. Questa bottiglia non è diversa da una variabile, nel senso che in teoria io la potrei modificare due righe sotto e dargli un valore diverso, però è semplicemente una questione di documentazione di ordine. La scrivo così perché so che non la voglio modificare, quindi salta all'occhio, poi scritto in maiuscolo così, salta all'occhio e che quella la usiamo come costante. Ed è molto fortemente suggerito, anche appunto se non c'è questo vero vincolo, se non c'è nessuno che mi impedisce di modificare questa variabile, ma non lo faccio perché non voglio farmi del male, essenzialmente, da complicarmi la vita, e se una variabile la scrivo come variabile e la uso come variabile, se la penso come costante la scriverò come costante e la userò come costante. Ecco, siamo fortemente spinti a usare costanti simboliche in tutto il programma. Cioè, qui c'è l'esempio che dice total volume uguale, volume totale uguale al numero di bottiglie per due, e se uno vede questa riga dice due cosa, ma perché due? Da dove arriva questo due? Se invece la stessa istruzione la scrivi con una costante simbolica, numero di bottiglie per il volume di una bottiglia, è chiaro che è ovvio che cosa stai facendo. Stai moltiplicando il numero di bottiglie per un volume unitario e quindi ti dà il volume totale. Ok? Quindi quasi sempre, quasi ogni numero che noi scriviamo in un programma ha un significato, deve avere un significato. E quindi questo significato glielo diamo attribuendogli un nome. E quindi all'interno del programma useremo tutte costante simboliche, quindi le definiamo all'inizio e poi le usiamo dopo normalmente durante il programma. È rarissimo che in un programma noi abbiamo bisogno di scrivere esplicitamente un numero che non sia 0, 1, meno 1 forse, come numeri espliciti. Perché quelli, vabbè, ci saranno i valori per contare, sommare, sottrarre. Ma tutti gli altri valori quasi sempre conviene definire come costante perché hanno un loro significato e quindi usare il valore della costante. Tra l'altro semplifica anche perché nel momento in cui dovessimo prendere delle bottiglie che non sono più da due litri ma sono da un litro e mezzo, tu hai un programma e dovresti andare a cercare tutte le volte in cui compare il valore 2 e chiederti ma questo 2 qua è usato come numero di bottiglie, come capienza della bottiglia oppure è usato con un altro significato? E allora andare a sostituire dal 2 all'1,5 solamente quelli che sono usati in quel modo. Una cosa a cui la probabilità di errore è del 106%, ok? Quindi è un piccolo trucco di programmazione, di documentazione, definire delle costanti simboliche, tutto in maiuscolo e all'inizio del programma e non cambiarle più. Quindi sono facilmente riconoscibili anche visivamente, diciamo così. Queste sono costanti, le trattiamo come costanti, queste le trattiamo come variabili. Semplicemente le chiaremo così e senza stare a fare tante parole, a colpo d'occhio immediatamente riconosciamo l'uso che ne faremo. Così come l'altra cosa, l'altro favore che facciamo noi stessi sarà quello di inserire del codice nel nostro programma, dei commenti all'interno del nostro codice, i commenti sono introdotti dal simbolo di cancelletto, dal simbolo di hash, da quel simbolo fino alla fine della riga e viene ignorato tutto dall'interprete e quindi possiamo scrivere ciò che vogliamo per commentare il codice. Può sembrare inutile perché nel momento in cui scrivo un codice so cosa sta facendo, in realtà mezz'ora dopo già non lo so più perché il mio ragionamento è da un'altra parte, quindi serve aiutarmi a capire cosa sto facendo. Dal punto di vista pratico, magari quando facciamo gli esercizi un pochino più complicati lo apprezzeremo meglio, io tendenzialmente quando scrivo un programma scrivo prima i commenti e poi il codice. Scrivo lo pseudocodice che voglio implementare sotto forma di commenti e poi vicino a ogni commento poi a un certo punto scriverò il codice Python vero e proprio. E quindi alla fine mi viene gratis avere un codice commentato perché prima ho scritto i commenti che in realtà sarebbero il mio pseudocodice su cui ho ragionato per sviluppare l'algoritmo. E poi quando tu torni due giorni dopo a vedere il tuo programma, leggendo anche i commenti che ti sei scritto, capisci un po' meglio che cosa stavi facendo senza doverlo andare a ricostruire dal codice. Quindi i commenti sono documentazione che scriviamo per noi stessi o per altri. Quindi qui c'è un esempio di un frammento di esercizio sulle bottiglie, che di fatto sono semplicemente quattro moltiplicazioni in croce, molto semplici, però se sono commentati uno capisce cosa sta succedendo. Già dare un buon nome a una variabile fa capire meglio che cosa sta calcolando il programma, dopodiché se lo commentiamo ancora stiamo spiegando in qualche modo quali sono i vari passi. Un po' come se descrivessimo il flowchart dicendo che qui si esegue questa funzionalità, questa operazione e poi abbiamo le singole istruzioni che la implementano. I due raggetti iniziali non hanno un significato particolare. In realtà dovrebbero servire, in alcune tipologie di documentazione servono per rappresentare che questo è un unico blocco, unico, e quindi quando ci sono dei software che prendono il nostro programma Python e generano in automatico la documentazione, allora hanno bisogno di sintassi particolari sui commenti, ma noi questo non lo applichiamo, non ci serve. Non arriveremo a quei livelli di complessità. Ok, veniamo un po' all'aritmetica, cioè abbiamo questi numeri, abbiamo questi valori, ripeto, interi, floating point e string, cosa ci possiamo fare? Le cose ovvie, qua vado abbastanza veloce perché è una sorta di ovvietà, ma le abbiamo come riferimento nelle slide. Possiamo usare tutte le cinque operazioni fondamentali, somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione e elevamento potenza. Ovviamente per scrivere espressioni complesse dovremmo usare le parentesi, le parentesi sono sempre parentesi tonde, anche annidate più volte, ad esempio questa espressione qua, B che moltiplica 1 più r di fratto 100, e questo fratto 100 ovviamente si applica solamente a r, elevato a n, e questo elevato a n si applica la parentesi, tonda e così via. E' ciò che scriveremo così in notazione matematica. Ma qui direi che non ci sono particolari problemi, al netto di ricordarsi che l'asterisco è la moltiplicazione, la slash è la divisione e il doppio esterisco è l'elevamento potenza. Queste operazioni lavorano sui numeri, quindi sia che essi siano numeri interi, sia che essi siano numeri in floating point. E' chiaro che addizione, sottrazione e moltiplicazione rimangono all'interno del proprio campo, quindi da interi generano interi, divisione e elevamento potenza invece possono generare numeri, anche floating point a partire dai numeri interi. e quindi se poi combino diversamente numeri di tipo diverso, combino interi e numeri in floating point, è possibile che il Python converta automaticamente i tipi, e quindi 7 più 4.0, in realtà viene, prima di tutto Python converte il 7 in 7.0, quindi lo fa diventare un floating point corrispondente, e poi sommerà 7.0 più 4.0. Attenzione che queste operazioni qua valgono solamente all'interno dei campi numerici, ok? Le stringhe sono un capitolo a parte e non si mescolano, diciamo così tanto amichevolmente, con i numeri. Se parlando di numeri interi, la divisione però può avere significati diversi. Può avere significati diversi, nel senso che la divisione, il simbolo di divisione normale tra numeri interi, dà un risultato sempre floating point, per definizione. Se invece volessimo la divisione intera, quindi solamente la parte intera della divisione, c'è un simbolo di divisione particolare che è dato dal doppia sbarra, doppio slash, attenzione che non è un commento come in G++, l'operatore barra barra calcola il quoziente e ignora la parte frazionaria. Quindi 7 diviso 4 fa 1,75. 7 barra barra 4 dà 1. Ovviamente funziona solamente sui numeri interi. Non ha senso farlo sui numeri floating point perché il concetto di divisione intera, di resto e modulo di una divisione, cioè di quoziente e resto di una divisione, ha senso solamente tra interi. E ovviamente così come c'è l'operatore di divisione intera, c'è anche l'operatore di modulo, cioè il resto della divisione intera. Come chiedeva Massimiliano tre minuti fa, per fortuna ho avuto la pazienza di aspettare, visto che la risposta c'era. Quindi quando io faccio divisione tra numeri interi, posso fare la divisione che mi dia come risultato un floating point, oppure separare il quoziente dal resto, con i due operatori di divisione intera separata. l'elevamento potenza, ho visto un paio di commenti, è il doppio asterisco. Alida mi dice, ma potrei anche usare la E come nell'esempio di prima? Allora, due problemi. Uno, la E fa solo, come ti ha risposto Nicolò, è solamente base 10, quindi solamente 1 E7 fa 1 per 10 alla 7. Ma il problema è che quella notazione con la E è pensata per i numeri costanti. Quindi tu dopo la E puoi mettere solamente dei numeri. Qui se devo fare elevato a 3, e so che è 3, allora posso, non lo posso fare, a 10 alla terza potrei scrivere E3. Ma se il valore dell'esponente fosse a sua volta una variabile, a sua volta un'espressione, come in questo caso è N, qua, non lo posso usare. Quindi quella notazione esponenziale con la E è usabile solamente se il valore è una costante. Se invece dipende dalle variabili, uso l'elevamento potenza normale con il doppio asterisco. L'operatore di modulo, che precedenza ha in espressione? La mia risposta molto educata, ma che cosa te ne frega? Nel senso che nel momento in cui hai un minimo dubbio su quale sia la precedenza di un operatore rispetto a un altro, metti un paio di parentesi. Sempre. Un paio di parentesi in più non costano mai niente. E quindi se io non sono sicuro se l'operatore di modulo abbia più o meno precedenza rispetto alla moltiplicazione, metto le parentesi così è più chiaro per chi legge, è più chiaro per me e non sbaglio. La vera risposta è non lo so. Non lo so ma non me ne frega niente perché mai mi sognerei di mettere un'espressione complicata che combini moltiplicazione, divisione e moduli senza mettere delle belle parentesi che facciano chiarire esattamente in che ordine voglio fare le operazioni. Probabilmente è la stessa precedenza delle moltiplicazioni e divisione e quindi vengono eseguite da sinistra verso destra. 5 asterisco 4 significa 5 alla quarta? Sì. Esatto. Il doppio asterisco è l'operatore di levamento potenza. L'operatore modulo, allora ripeto per Alessia, non per Alessia ma per tutti grazie ad Alessia che l'ha chiesto, mi dà il resto della divisione. Quindi 10 diviso 3 fa 3,33 come numero reale. Ma se noi facessimo la divisione, immaginate come facevamo alle scuole elementari, faccio la divisione, quante volte ci sta il 10 nel 3 ci sta 3 volte. Quindi il quoziente è 3. Ho usato l'oppia sbarra e mi dà il risultato sotto forma di parte intera del risultato. 10 diviso 3 fa 3 con che resto? Chiaramente 10 diviso 3 non fa 3 esatto, ma fa 3 con il resto di 1. Come faccio a calcolare il resto? Uso il proprietatore modulo che mi dà il modulo del resto della divisione. Viene chiamato resto oppure modulo. Infatti i famosi 44 gatti in fila per 3 facevano 14 file con il resto di 2. Quindi la canzoncina era giusta. 6 per 7 è 42 più 2 è 44 diceva il verso successivo così lo imparavamo bene. Le parentesi utilizzabili sono solo quelle tonde. Ci sono solo le parentesi tonde perché la parentesi graffe e le parentesi quadre hanno un significato diverso in Python. Quindi le parentesi utilizzate per costruire le espressioni sono unicamente le parentesi tonde. Vabbè, qui ci sono riassunto tra le divisioni intere che possiamo poi guardarcelo quindi se parti qua semplici che sono solamente di riferimento non le scorriamo rapidamente. Quindi per costruire le espressioni usiamo solamente parentesi tonde le quadre le useremo per indicizzare list le graffe le utilizzeremo per i dizionari e per gli insiemi quindi hanno un significato sintattico completamente diverso in Python. Ok, all'interno delle espressioni abbiamo le quattro operazioni ma potremmo anche avere voglia di espressioni un pochino più complicate uno vuole fare la radice quadrata l'altro vuole fare il coseno e l'altro vuole fare l'altra funzione matematica eccetera. Allora si può benissimo ovviamente usando il meccanismo delle funzioni una funzione così come la funzione print era un nome già che ci veniva messo a disposizione dalla libreria standard di Python e facevano un certo operazione in quel caso stampava roba sullo schermo ci saranno tante altre funzioni che calcolano un valore a partire da un parametro che gli passo quindi quando parlo di una funzione intendo un blocco di codice che riceve da me dei parametri se voglio fare la radice quadrata di 2 devo dire ok ti passo il valore 2 e tu dammi la radice quadrata in cambio quindi avrò degli argomenti che passo la funzione detti anche parametri che passo la funzione e dei valori restituiti calcolati valori di ritorno dalla funzione stessa che poi posso usare perché sono il valore il risultato che mi serviva quindi ad esempio una funzione predefinita è nella libreria standard di python è la funzione abs cioè valore assoluto la funzione valore assoluto mi restituisce il valore assoluto del valore che viene passato come parametro questo valore può essere una costante può essere una variabile può essere a sua volta un'espressione complicata fatta di altre variabili e altre espressioni quindi io gli passo un valore in questo caso abs richiede un parametro solo quindi gli passo solamente un valore lei acquisisce questo valore fa i suoi calcoli e restituisce il valore 173 in questo caso il valore assoluto il positivo cosa vuol dire che una funzione restituisce un valore vuol dire che al posto di tutta la funzione è come se ci fosse quindi quando io chiamo una funzione è come ho perso il pennino ok e se quando io chiamo una funzione è come se prendessi tutto questo blocco e dicessi al posto di questo blocco lo cancelliamo e mettiamoci il valore di ritorno che in questo caso è 173 e quindi nel calcolo dell'espressione ogni volta che ci sia una chiamata funzione prima viene calcolato l'argomento della funzione il parametro se questa qui a sua volta fosse un'espressione complicata viene calcolato prima il valore numerico di quell'espressione python non fa calcoli simbolici con le x con le y fa calcoli con i numeri ok quindi prende il valore corrente in quel momento di quell'espressione lo calcola lo passa alla funzione abs la funzione abs farà il suo lavoro e restituisce un valore questo valore io a sua volta andrà nel contesto in cui l'espressione più grande è stata scritta andrà a sostituire e verrà usato come valore risultante quindi in questo caso questo valore viene usato per essere assegnato a una variabile quindi è qui esattamente come se scrivessimo distance uguale a 173 semplicemente è un valore invece che è stato calcolato da una funzione che a sua volta è stato calcolato sulla base del valore di un parametro che ha ricevuto ma qui non c'è ricordiamoci sempre che queste non sono variabili matematiche e non sono funzioni matematiche il valore che calcolano dipende esclusivamente dal valore che ha quella variabile in quel momento se poi dopo la x la cambio distance non cambia ok non creo nessun legame matematico tra x e distance prendo un numero che è il numero che in quel momento è associato al valore di x lo frullo e alla fine il risultato che esce dal frullatore lo metto dentro un'altra variabile lo salvo come valore della variabile distance da quel momento fino a un attimo prima la variabile x e la variabile distance non erano parenti un attimo dopo la variabile x e la variabile distance non sono di nuovo parenti cioè ognuna va per conto proprio non si crea nessun legame ok si lavora non con la variabile x ma col valore che ha la variabile x in quel momento ricordatevi queste parole in quel momento ok oppure quindi in questo caso ho preso il valore di una funzione l'ho salvato in una variabile oppure posso prendere il valore di una funzione e usarlo all'interno di un'espressione più grande lo passo a un'altra funzione come in questo caso la print lo posso usare in un'espressione più complicata non c'è nessun limite non c'è nessuna problematica e quindi così come il valore assoluto ci sono varie funzioni matematiche già predefinite il valore assoluto l'abbiamo visto è ovvio che cosa sia se x è un numero intero vediamolo un po' cosa mi restituirà valore assoluto di 3 mi restituisce 3 valore assoluto di meno 3 mi restituisce 3 valore assoluto di meno 3.0 mi restituisce 3.0 positivo quindi vedete che se passo un numero intero mi restituisce un numero intero se passo un floating point mi restituisce un floating point se passo una stringa mi restituisce una pernacchia mi dice operando che non è del tipo giusto che non ho l'ABS non accetto operandi di tipo stringa ok come era ovvio però almeno vediamo che tipo di errore salta fuori se ci proviamo a farlo così come valore assoluto ad esempio c'è l'operazione di round di arrotondamento e quindi se io arrotondo un numero x che tendenzialmente sarà un numero in floating point otterrò un numero senza cifra dopo la virgola quindi se io faccio un round di 3,14 fa 3 se fosse 3,84 fa 4 perché lo arrotonda il più vicino ok in questo caso lo restituisce un intero con 0 cifre decimali se no potrei arrotondarlo in modo che abbia n cifre decimali io voglio un numero con due cifre decimali allora round che ne so di 3,33 però ne voglio solamente due cifre decimali e lui mi restituirà un numero in floating point che è l'arrotondamento del numero che gli ho passato a due cifre decimali solamente quindi queste sono operazioni funzioni semplicissime massimo e minimo mi restituisce il valore massimo e il valore minimo tra quelli che gli ho passato come argomenti queste funzioni sono funzioni che restituiscono che accettano più di un valore contemporaneamente cioè più di un parametro quindi ad esempio la funzione massimo se richiede il massimo tra 3, 7 e meno 2 vabbè è minuto 6 mi dirà 6 può avere più di un parametro chiaramente la funzione massima ma la funzione minimo analogamente queste funzioni vedete che le sto usando normalmente non ho bisogno di fare nulla di particolare adesso le sto usando nella console interattiva potrei benissimo inserirle nel programma ok per usare altre funzioni che non sono non siano direttamente predefinite possiamo accedere alle ampie librerie di funzioni che sono disponibili in python una libreria che cos'è è un insieme di funzioni insieme di funzioni di variabili di tipi insomma per ora ci concentriamo sulle funzioni che è stato scritto da qualcun altro e noi possiamo usare ok in generale alcune librerie fanno parte della cosiddetta libreria standard di python la libreria standard è già inclusa direttamente dentro python e vedete che c'è nella documentazione the python standard library e vi dà l'elenco di tutte le questi sono i moduli che a loro volta contengono funzioni che sono già disponibili in tutte le installazioni di python da zero queste sono funzioni diciamo così standard quindi noi possiamo usare qualunque funzione nativamente immediatamente senza far nulla di particolare che sia inclusa nella libreria standard richiamando il modulo in cui questa funzione è presente oppure potremmo eventualmente installarne altre i moduli cosa sono? sono questi che sono elencati qua quindi le funzioni sarebbero sono diecimila funzioni diverse e che per guardare un po' d'ordine le hanno raggruppate in vari moduli e quindi ad esempio da qualche parte se non sbaglio c'è la la libreria matematica eccolo qua una libreria un modulo che si chiama math che se clicco dentro mi dice questo modulo poi tra un attimo vediamo come si usano questi moduli in pratica contiene funzioni matematiche e quali sono le funzioni matematiche comprese in questo modulo e sono tutte qua il ceiling il numero di combinazioni copia di segno valore assoluto per per il numero di floating point fattoriale insomma ci sono massimo comundivisore guarda qua che c'è il massimo comundivisore la si sono la la famiglianza di due numeri a meno di epsilon e ce ne sono ci sono anche da qualche parte qualcuno parlava della radice quadrata le azioni risponenziali logaritmi trigonometriche c'è tutto quello che ci serve insomma le funzioni di base matematiche tutte queste sono dentro ah guarda che ci sono anche le costanti c'è anche pi greco c'è e essenzialmente che sono le costanti più semplici matematiche sono tutte dentro questa libreria che si chiama math Angel chiede se le funzioni di libreria sono scritte usando solo la libreria standard di python dipende no di solito molte di queste sono scritte in C direttamente dentro il compilatore altre invece sono a loro volta implementate in python come siano implementate di fatto non è visibile molte per efficienza sono direttamente mappate sulla libreria C dell'interprete python sottostante per usarle come facciamo allora ci sono funzioni che sono già predefinite abs mod max min allora quelle le usiamo print le usiamo e basta oppure funzioni che non sono direttamente predefinite nel linguaggio ma fanno parte della libreria standard quindi uno di quei tanti moduli che abbiamo allora in questo caso è semplicissimo basta importare il modulo e poi usare la funzione quindi bisogna scrivere un'istruzione all'inizio che si chiama import math e a quel punto si può usare la funzione matematica tutte le funzioni matematiche se invece volessimo delle funzioni che sono in libreria addizionali al di là di quelle della libreria standard beh dovremmo prima installare la libreria e poi e poi importare il modulo perché chiaramente se quel modulo non è installato sul mio computer devo prima installarlo e poi e poi lo utilizzo diciamo che nel nostro corso non avremo praticamente mai bisogno di usare librerie esterne rispetto a quelle standard però tra un attimo vi faccio comunque vedere come si può fare allora le funzioni predefinite che sono sempre disponibili sono elencate qua qui c'è il link da cui ho preso queste immagini direttamente dalla documentazione standard queste sono funzioni che non hanno bisogno di nulla le chiamano built in predefinite direttamente nel linguaggio mentre invece ad esempio le funzioni matematiche sono all'interno della libreria che si chiama math allora l'istruzione per importare non so se volessi usare la ricci quadrata posso usare questa istruzione di solito le istruzioni di importazione le mettiamo all'inizio del programma giusto per dichiarare guarda ho bisogno anche di questa libreria e la sintesi è molto semplice from math dal modulo che si chiama math importa la funzione che si chiama sqrt e a quel punto puoi usare direttamente sqrt dentro il tuo codice come se fosse una funzione normale come se fosse una funzione predefinita l'hai importato questo nome di funzione dal modulo che la contiene il modulo math e nel modulo math ci sono come abbiamo visto queste varie funzioni che sono alcune quelle matematiche solite e quindi la sintesi a from math import il nome della o delle funzioni che vuoi importare ci sono delle scorciatoie nel momento in cui io volessi importare più funzioni dallo stesso modulo allora se io volessi usare la ricci quadrata il seno e il coseno nessuno mi vieta di fare from math import la ricci quadrata virgola seno virgola coseno se proprio le volessi tutte esiste la sintesi con l'asterisco from math import asterisco e quindi mi importa tutte le funzioni che sono definite in quel modulo non è molto consigliabile fare questa cosa perché se io importo funzioni solo da math va bene ma se io importassi funzioni da moduli diversi e questi vari moduli definissero per caso due funzioni che fanno cose diverse ma hanno lo stesso nome e con l'import asterisco porterai dentro tutte le funzioni dell'uno tutte le funzioni dell'altro e magari non so neanche che l'altro ha una funzione dello stesso nome della funzione del primo che in realtà mi serve e allora avrei una confusione di nomi quindi di solito si consiglia di importare esplicitamente le varie funzioni che mi servono tra l'altro l'ide nel momento in cui scriviamo le funzioni in qualche modo ci aiuta anche lui nel senso che se io volessi calcolare che ne so ad esempio il mio tax rate tax2 uguale sqrt di tax rate in questo caso mi importa questo nome vedete qui sono dentro PyCharm ho scritto la funzione sqrt vado sopra mi lo segnala come errore perché ovviamente non la conosce e mi dà la scorciatore importa questo nome ci clicco sopra e dice guarda questo nome sqrt è definito in due librerie diverse mat e cmat cmat noi non la usiamo ma se voi la potete usare è la libreria di matematica con i numeri complessi quindi se volete fare dei conti con i numeri complessi il cmat definisce un tipo di dati complex su cui potete fare tutte le operazioni che fate in analisi matematica sui numeri complessi quindi la radice quadrata tra reali e tra complessi sono due bestie molto diverse e lui mi chiede quale vuoi importare beh io voglio importare quella reale quindi clicco qua e quindi automaticamente PyCharm mi mette lui questa istruzione from math import sqrt e quindi se poi volessi fare x uguale seno di pi greco per dire allora pi greco a sua volta lo posso importare da matematica se non lo posso importare da matematica e quindi facendomi aiutare dal dal leader non devo neanche scrivere lui me lo importa correttamente dall'inizio come dicevo potrei fare from math import asterisco e me le importa tutte però come dicevo è poco consigliato proprio perché mi importa anche dei nomi immaginate di fare la libreria mat la libreria cmat quella con i numeri complessi a questo punto scrivo radice quadrata non so più quale sto usando allora se per caso volessi usare tante funzioni da una libreria e non e non le voglio importare tutte una per una e chissà perché sei così stanco che non puoi farlo allora esiste una terza sintassi possibile che è semplicemente dire import mat ti dice guarda io voglio accedere a questa a questa libreria e poi tutte le volte che una funzione di quelle librerie la qualifichi come si dice cioè dici il nome della funzione con davanti il nome del modulo da cui lo prendi che devo dire che è anche molto più chiaro perché qui dici ok p cos'è è la costante pi greco della libreria matematica quindi esistono questi tre modi o le funzioni le importo una per una o le importo tutte ma non lo faccio perché non ci piace oppure importo semplicemente il nome della libreria e poi a quel punto posso andare a pescare dentro la libreria tutte le funzioni che mi servono tanto ci metto sempre davanti il nome della libreria e quindi se facessi una riccia quadrata tra numeri reali userei mat.sqrt se la facessi con numeri complessi farei cmat.sqrt e non c'è nessuna ambiguità quindi a parte il secondo metodo in cui importo tutti il primo e il terzo sono assolutamente utilizzabili normalmente ci sono allora io direi per le funzioni mi chiedete consiglio per le funzioni matematiche ci sta benissimo importare le singole funzioni che usiamo però quando uno comincia a usare altre librerie in più molto spesso aiuta anche avere il nome della libreria a fianco quindi c'è una libreria per fare grafici si chiama matplotlib tutti la importano chiamandola mp e quindi mp. ti ricorda che stai pescando da quella libreria quindi diventa anche facile riconoscere che cosa stai facendo fare un esempio dove si esegue una riccia quadrata è questo ad esempio oppure possiamo fare direttamente in modo interattivo io posso dire x uguale 7 anche in modo interattivo ovviamente io non posso scrivere ecco y uguale sqrt di x anche in modo interattivo non lo posso fare perché ovviamente è sempre un interprete python quindi dovrò prima importare mat a questo punto potrò scrivere y uguale mat punto sqrt di x e y vale questo numero qua che è la radice quadrata di 7 e quindi la possiamo usare direttamente così qui in questo caso ho importato mat altrimenti avrei potuto importare from mat import sqrt allora in questo caso mi dà direttamente a disposizione il nome sqrt come funzione senza 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 dover mettere mat davanti è assolutamente equivalente sono due modi totalmente equivalenti fateci preferite se importo due volte vedete che l'ho fatto non da problemi nel senso che la seconda importazione si aggiunge alla prima quindi in questo caso potrei usarlo sia con una forma che con l'altra forma quindi è una cosa molto leggera semplicemente mi fa accedere a queste funzioni che stanno in questi moduli la sintassi di questa funzione è molto simile sia a quella che c'è in altri linguaggi di programmazione cambierà qualcosa quando passeremo argomenti complessi ma per il resto finché lavoriamo con numeri semplici è tutto molto semplice quindi attraverso queste istruzioni import possiamo accedere a un'enormità di funzioni che giustificano il famoso motto all batteries included di python c'è già tutte le funzioni che ti possono servire tra le funzioni vi faccio solo vedere una cosa se dovessimo usare delle funzioni che sono in moduli non facenti parte dell'Ebria Standard quindi ancora oltre tutte quelle che abbiamo visto lo si deve fare andando a innanzitutto installare questi moduli all'interno del nostro progetto per questo si fa nel virtual environment perché ogni virtual environment ogni progetto potrebbe avere bisogno di moduli aggiuntivi diversi da quelli degli altri progetti e allora ogni volta che crea un nuovo progetto PyCharm mi dice senti io mi faccio una copia di python così lì dentro so installarci esattamente i moduli che ti servono se vi dovesse mai servire andate in settings dentro settings avete qua non so se è già aperto perché l'avevo già aperto prima se no dentro interprete python c'è l'elenco dei pacchetti dei moduli che sono installati in questo virtual environment se volete aggiungere un modulo non c'è niente più semplice che premere il più install e qui avete un motore di ricerca di tutti i moduli non chiedetemi quanti sono ma che sono migliaia che sono stati pubblicati in un cappare alcuni sono scemi ovviamente ma molti sono utili che ne so appunto dicevo prima matplotlib esiste tutta una serie di moduli che servono per fare sia calcoli matematici che grafici c'è una famiglia di moduli che si chiama scipy che è una libreria scientifica per python e quindi ci sono tutti i calcoli statistici scientifici c'è una libreria che si chiama simpy che fa calcoli simbolici quindi magari se volete fare una derivata potete usare questo sistema scrivete la funzione e lui vi dice non come numeri ma come formula come espressione qual è la sua derivata qual è il suo integrale quindi vi sto un po' dicendo e quindi questi moduli qua diciamo così chiaramente uno deve conoscerli una volta che hai trovato quello che gli serve schiaccia su install e a questo punto quel modulo viene installato dentro il virtual environment di questo tuo progetto e da quel momento in avanti puoi fare import normalmente ok tutti questi pacchetti chiaramente sono migliaia e quindi ciascuno va ci sono quelli per la grafica ci sono quelli per l'applicazione web c'è veramente di tutto chiaramente devi conoscerli e devi impararli devi imparare la documentazione eccetera allora una cosa che abbiamo intenzione di fare se ce la facciamo con le nostre energie è farvi per chi è interessato una serie di sorti di pillole di approfondimento dei flash dicendo guarda se usi questa libreria puoi fare queste cose a quest'altra in quest'altra libreria puoi fare quale altre cose che sono cose in più che sono al di fuori del programma di questo corso ma magari potete usare in altri contesti Damiano credo che lo si possa fare ma molto di descosto Alessio non capisco non capisco cosa vuol dire non mi fa fare la SQRT cioè si se ci incolli esattamente il codice Damiano non ho detto di usarlo no poi l'esame in realtà non è solo calcolo quindi non è così semplice no Alessio non ho capito qual è il tuo problema che mi dici non so a me non fa fare la SQRT se mi incolli il codice riusciamo a vederlo quindi questo quindi abbiamo tutte le operazioni metiche di base abbiamo tutte diciamo almeno le librerie matematiche più tutte le altre e le possiamo usare tranquillamente facciamo magari qualche flash su alcune funzioni predefinite built in utili ad esempio c'è una funzione int la funzione float che servono per convertire numeri interi in floating point e viceversa o anche stringhe in interi e stringhe in floating point quindi se voi prendete un valore ad esempio balance che potrebbe essere un valore in floating point se chiamate la funzione int la converte in intero quindi trituisce un numero intero che chiaramente approssima il valore di floating point che avevi quindi in qualche modo abbiamo diversi metodi per convertire un numero in virgola mobile in un numero in un numero intero int che lo tronca quindi int di 3,8 fa 3 round che lo approssima round di 3,8 fa 4 come abbiamo visto prima oppure ci sono le funzioni delle librerie matematica che mi fa esplicitamente il troncamento il ceiling e il floor sono all'intero inferiore e all'intero superiore cioè il pavimento e il soffitto quindi le due prende un numero reale e lo appoggia verso il pavimento o lo appoggia verso il soffitto quindi al livello intero inferiore o superiore attenzione che la definizione di troncamento che dà mat.trunk e la definizione di troncamento che dà int sono diversi perché int tronca sempre verso 0 e tronc invece tronca verso il numero minore quindi se ho meno 1,5 il tronc di meno 1,5 è meno 2 l'int di meno 1,5 è meno 1 però vabbè queste cose qua sono tutte queste frasette qua in realtà non ho fatto altro che copiare la documentazione e ho messo insieme vari modi di gestire le stesse cose chiaramente queste funzioni qua sono tutte riconducibili una all'altra facciamo attenzione però quando facciamo i calcoli che i numeri in virgola mobile sono numeri sempre approssimati ok in python se io faccio 1 diviso 3 per 3 1 diviso 3 per 3 sembra che faccia 1 ma se poi a questo numero io so tra essi 1 voi mi dite ma questo fa 0 scusate ho sbagliato le parentesi questa cosa me lo fa ho sbagliato l'esempio scusatemi ogni ogni operazione che io faccio con numeri in floating point avrà sempre un minimo errore di arrotondamento ok qui c'è l'esempio che ovviamente l'hanno studiato meglio io ho improvvisato in temporale e mi è andata male dove prende un numero lo moltiplica per 100 e il risultato non fa esattamente ciò che mi aspettavo ma è qualche cosa che ha vabbè voi vedete qualche miliardesimo di miliardesimo di errore ok però non è detto che se io poi dovessi controllare se questo numero vale 435 la risposta sarebbe no quindi lo vediamo meglio quando facciamo condizionali però la regola generale è che i numeri in floating point non si possono mai confrontare direttamente con l'uguaglianza posso solo chiedermi se sono maggiore o minore o se sono abbastanza vicini quindi la libreria matematica mi dice mi dà già una funzione che si chiama mat appunto is close che chiede se due numeri in floating point sono abbastanza vicini a meno di un epsilon che questo epsilon può anche essere molto piccolo però non è mai zero proprio perché per come sono rappresentati all'interno i numeri in floating point hanno sempre un certo tipo di approssimazione vabbè qui ci sono alcuni esempi di espressioni armetiche ci dice questa slide ma non ci perdiamo tempo che le parentesi devono essere messe giuste ovviamente qua invece si dice usate gli spazi prima vedevo nella chat delle discussioni del tipo ma lo spazio è obbligatorio ma non è obbligatorio perché l'interprete python capisce benissimo quando finisce l'uguale quando comincia la variabile però aiuta aiuta noi avere un codice ordinato aiuta il programmatore non aiuta l'interprete l'interprete non interessa allora vi diamo due domande una è su AVO che mi dice c'è un modo per installare automaticamente le librerie beh più automaticamente che selezionare cliccare su installa non c'è in realtà a volte funziona nel senso che se io cercassi di importare qua ad esempio Simpy e non ce l'ho nella libreria non ce l'ho installato in questo virtual environment quindi provo a fare un import di qualche cosa che non è nella libreria standard il PyCharm mi aiuta e mi dice ah sì guarda che tu vuoi usare questo pacchetto non ce l'hai installalo direttamente quindi riconosce che ho scritto un nome di pacchetto valido esistente non ce l'ho installato e quindi mi dà l'opportunità di installarlo vedete qua sotto scrive installing e frulla un pochettino ci vuole un po' perché ovviamente lui dietro le quinte sta scaricando installando quel pacchetto lo sta aggiungendo al virtual environment e poi rilancerà l'interprete Python per dire guarda che adesso questo pacchetto esiste quindi è una cosa che richiede diciamo così 30 secondi o giù di lì e poi a quel punto questo pacchetto sarà disponibile questa operazione qua install package è la stessa che abbiamo visto prima andando nei settings e andando a ricercare nel catalogo dei pacchetti se sono già i nomi dei pacchetti a volte si può fare come dicevo sta lavorando un pochino mentre invece vedo la domanda che seno di 2 pi greco è giusto seno di 2 pi greco mi dice che è praticamente 0 perché siamo meno 2 elevato a meno 16 per 10 alla meno 16 quindi è 0,00016 con un 2 in fondo quello non è 0 perché 0 non esiste nessun numero esatto come dicevamo un attimo fa scriviamolo qua così lo vedono tutti lui mi dice se io stampo il seno di 2 pi greco cosa ho sbagliato mat.si forse non ho installato seno mat.p l'auto completamento a volte fa un po' cosa che vuole quindi il seno di 2 pi greco mi dice questa cosa qua questa cosa qua non è lo 0.0 che mi aspettavo ma è un numero molto molto vicino allo 0 che è la precisione con cui Python riesce precisione di 2 alla meno 16 quindi è un errore relativo di 2 alla meno 16 di 10 alla meno 16 sei presente quant'è 10 alla meno 16 19 18 quasi 100.000 miliardi una parte su 100.000 miliardi quindi sufficientemente preciso ma non è lo 0 che esteticamente la nostra mente matematica estetica vorrebbe vedere non c'è i calcoli numerici in qualunque linguaggio di programmazione sono sempre approssimati anche su REPL si possono installare librerie esterne sì anche REPL può ribadisco che le librerie esterne noi non le useremo quasi mai però perché ci basta già tutto ciò che c'è anzi ci avanzerà largamente già ciò che c'è nella libreria standard però nella su REPL se voi andate sulla sinistra c'è questa iconcina qua packages dove potete richiamare altri allora i package generibili standard già ci sono quindi qua potete scrivere import mat e funziona se avete bisogno di altri pacchetti che ne so abbiamo detto simpai tanto per dirne uno lui cerca e lo scegli e fai con il più te lo installa direttamente la documentazione addirittura di REPL ti dice che puoi anche non farlo perché se tu scrivi un import vedi se sai che package ti serve scrivi semplicemente import e la prima volta che fai il run di questo REPL io me lo vado a cercare me lo vado a installare da solo quindi la risposta è assolutamente sì funziona anche qua la possibilità di importare altri package ok magari spendiamo un attimo di tempo a a provare invece a risolvere un esercizio insieme poi c'è l'altro argomento che è quello sulle stringhe ma questo lo rimandiamo all'inizio della settimana prossima ok quindi proviamo un attimo a cercare di consolidare un pochino le cose che abbiamo fatto quindi usiamo questi ultimi 20 minuti per fare un esercizietto di progettazione ok poi su questo esercizio ci sono i vari passaggi nelle slide ma noi andiamo avanti indipendentemente poi ve li potete riguardare nelle slide quindi lo facciamo ragionandoci insieme seguendo paro paro ciò che c'è già sulle slide qui ci parla di una situazione pratica in cui noi vogliamo diciamo così piastrellare una stanza ok e mi dice bisogna posizionare lungo il muro di una stanza una fila di piastrelle nere e bianche e quindi abbiamo il muro che ha una sua certa larghezza e le piastrelle che hanno una certa dimensione ok allora lui mi dice l'architetto qui siamo ingegneri quindi possiamo parlare male degli architetti ha specificato perché sì che la prima e l'ultima piastrella di questa fila devono essere nere quindi abbiamo piastrelle che possono essere nere o bianche ma la prima e l'ultima devono essere nere perché se no lui si mette a piangere ok allora noi dobbiamo calcolare quante piastrelle sono necessarie quante bianche quante nere e ovviamente nel caso in cui la larghezza della parete non sia esattamente un multiplo fatto giusto del numero di piastrelle anzi di un numero disparo di piastrelle come chiamato un attimo allora ci sarà uno spazio vuoto dai due lati e vogliamo ovviamente che questo spazio vuoto deve essere uguale a sinistra rispetto a destra ok quindi dobbiamo calcolare questi due valori numero di piastrelle totali bianche e nere e spazio rimanente a partire dalla larghezza di ogni piastrella e dalla larghezza della parete Emanuele ci chiede se dobbiamo tener conto anche dello spazio tra le piastrelle diciamo che lo spazio tra le piastrelle lo assorbiamo già nella dimensione della piastrella stessa ok quindi la fuga tra le due piastrelle diciamo che fa già parte della misura della piastrella infatti così è nel senso che poi ti danno un passo di posizionamento delle piastrelle stesse non andiamo ad aggiungere un valore in più allora come possiamo procedere questo qua è un tipico problema diciamo di calcolo in cui dobbiamo un attimo pensarci per trovare una espressione una serie di passaggi che ci possono portare al risultato finale sono delle formulette dei calcoli allora io provo ad impostarlo scrivendo insieme a voi dello pseudocodice ci ragioniamo e poi gradualmente lo trasformiamo in codice vero e proprio allora facciamo un nuovo file python sto abusando di questo progetto che si chiama la prima lezione ma va bene così piastrelle e quindi qua ci mettiamo un bel commento soluzione volta in aula dell'esercizio sulle piastrelle sulle piastrelle ok allora noi abbiamo dei dati di partenza quali sono i dati di partenza la dimensione della parete quindi la chiamiamo la parete magari la metto in maiuscolo perché per noi è una costante è un dato noto non so diciamo potrebbe essere 3 metri e 20 in metri 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 lo metto come commento perché ovviamente python non conosce le unità di misura e poi che sarà ovviamente un numero in floating point non è detto che sia un numero intero nel libro troverete degli esercizi che sono assolutamente assurdi perché misurano le cose in pollici in piedi in once eccetera perché purtroppo chi ha tradotto il libro dall'americano all'italiano non si è messo a tradurre anche l'unità di misura quindi a volte sono esercizi che ci fanno un pochino sorridere fanno dei giri incredibili quando noi per fortuna usando il sistema metrico internazionale non abbiamo di questi problemi dopodiché abbiamo la piastrella anzi potrebbe essere lato piastrella perché piastrella non vuol dire niente lato piastrella magari abbiamo le piastrelle da 15 0 15 sempre metri sono 15 centimetri ok allora noi dobbiamo calcolare il numero di piastrelle bianche numero di piastrelle nere piastrelle nere e poi lo spazio vuoto ai lati allora con i vincoli che è la prima e l'ultima piastrella sono nere virgola lo spazio è uguale ai due lati quindi la prima cosa che ci sembra di dover fare è capire come anche già state scrivendo capire quante piastrelle ci stanno a occhio proviamo a farlo a mano perché la prima cosa saremmo capaci a farlo a mano abbiamo tutti i dati allora 3 metri 20 0 15 boh cosa devo fare se io avessi una piastrella sono 15 centimetri due piastrelle sono 30 centimetri 0 3 metri se io avessi 10 piastrelle 10 per 0 15 sono 1 metro e mezzo 20 piastrelle per 0 15 sono 3 metri 21 piastrelle per 0 15 fa 3 15 quindi 21 piastrelle è il numero totale di piastrelle che ci stanno in quel muro ok però vanno bene perché con 21 piastrelle riesco a iniziare a terminare con una nera sì sì perché 21 non è dispari ok se fosse venuto fuori 20 non sarebbe andato bene perché 20 se inizio con la nera finisce con la bianca se inizio con la bianca finisce con la nera e quindi in quel caso se fosse venuto fuori 20 avrei dovuto prendere solamente 19 e avere più spazio ai lati quindi in questo caso io avrò 21 piastrelle di cui 11 nere e 10 bianche no e uno spazio laterale che sarà la metà di 3,2 meno 3,15 perché 3,2 è tutto il muro 3,15 è ciò che viene occupato da 21 piastrelle e quindi rimarrà 0,05 5 centimetri 2,5 di qua e 2,5 di là ok questo è il ragionamento che abbiamo fatto in un caso poi cambiamo i numeri e a mano lo rifaremo di nuovo faremo lo stesso ragionamento per tentativi noi ovviamente scrivendo il programma non abbiamo il lusso di poter sapere già quanto valgono questi numeri il programma deve lavorare a prescindere dal valore specifico di questi numeri e deve funzionare sempre quindi noi adesso la funzione if non la conosciamo ancora in python e quindi cerchiamo di non usarla ok cerchiamo di lavorare puramente in termini di numeri e di espressioni armetiche allora che cosa stiamo facendo noi se noi noi potremmo calcolare il numero di piastrelle numero di piastrelle facciamo n piastrelle num piastrelle potrebbe essere il lato della parete diviso il lato piastrella questa è la prima cosa che ci viene in mente di fare questo non va bene lo stiamo raffinando però decidiamo già scusatemi a livello di organizzazione del codice e prima calcola il numero di piastrelle e poi dopo calcola lo spazio rimanente voi avete visto come disegno male i diagrammi di flusso e questo è il motivo per cui preferisco lavorare sul testo dello pseudocodice però mentalmente vedete lì pure il diagramma di flusso in cui ho l'acquisizione dei dati blocco 1 calcola il numero di piastrelle blocco 2 calcola lo spazio rimanente per ora sequenziale ok allora la prima cosa che ci farebbe in mente sarebbe questo ma questo non funziona per due motivi uno perché questa divisione è una divisione reale e quindi mi darebbe un numero frazionario mentre il numero di piastrelle deve essere un numero intero due perché non tiene conto del vincolo cioè sarebbe il numero di piastrelle senza tener conto del vincolo che devono essere una bianca e una nera l'operazione come mi dite di divisione intera così non la posso usare perché questi due non sono numeri interi ma sono numeri frazionari quindi non ha senso fare la divisione intera tra numeri frazionari ok se io faccio 7.2 divisione intera 1.3 viene fuori un numero che però non ha non ha molto senso 5 cosa vuol dire 5 allora faccio la divisione e poi estrago la parte intera potrei troncare il risultato della divisione quindi faccio la divisione scusate normale tra numeri reali no e mi verrà 11 virgola qualcosa quindi faccio 3.20 lo scrivo sotto 3.20 diviso 0.15 e mi viene 21 erotti 21 erotti lo posso arrotondare faccio un int di questa cosa qua come abbiamo visto te lo tronca al numero intero 21 ok questo sono stato fortunato ma se avessi avuto anziché 3.10 avessi avuto 3.20 mi avrebbe dato 20 e 20 non mi piaceva allora proviamo a trovare una formula che sono d'accordo con voi dicendo vado a vedere se è pari o dispari poi faccio due cose diverse ma purtroppo l'if non lo sappiamo ancora fare non l'abbiamo ancora imparato allora riesco a dare una formula che mi dica esattamente il numero di piastrelle ogni volta allora questo mi dà il numero di piastrelle che andrebbe bene se non ci fosse il vincolo però se sono se devono essere dispari io voglio che questa cosa qua mi dia fuori cioè che questa seconda espressione deve darmi 19 non 20 chiaro perché perché 20 non avrebbe non rispetterebbe il vincolo della prima e dell'ultima piastrella nera allora nel caso in cui questa cosa qui sia desse un risultato pari devo fare in modo di prendere un intero in meno allora in realtà ci sono allora ci sono n modi diversi certo nel caso del 20 devo scendere a 19 e aumentare il piatto vuoto non usiamo proviamo a non usare la if poi lo faremo sicuramente con la if perché è il modo più naturale però proviamo a non usarlo allora Jacopo fa tutto un truschino per dire ok per arrotondare faccio la metà prendo la parte intera e poi raddoppio e questo è un modo l'altro modo è quello anche di ragionare su ciò che succede nelle piastrelle cioè noi cosa abbiamo qui abbiamo la parete l'altra parete e poi ci mettiamo le piastrelle in mezzo quindi devono essere nera bianca nera bianca nera bianca nera bianca nera ok e lo spazio davanti e dietro allora praticamente proviamo a ragionare non in termini di singole piastrelle ma di coppie di piastrelle cioè tutta questa cosa qua è fatta con una piastrella nera e poi tante coppie bianco nero allora proviamo a chiederci non il numero di piastrelle che non ci viene giusto o perlmeno dovremmo fare i truschini secondo me l'espressione di Jacopo potrebbe essere giusta ma voglio poi vedervi dopo domani quando rileggete quel codice a capire che cosa fa no ma il numero di coppie bianco nero di piastrelle non è più facile da calcolare cioè in questo con questi numeri quante qui abbiamo una piastrella nera più un certo numero di coppie bianco e nero al numero di coppie bianco e nero non sarà altro che a questo punto la larghezza della parete a cui ho tolto la una piastrella fratto due volte il lato della piastrella il tutto parte intera cosa ho fatto? questa parte qui parete meno lato piastrella è la larghezza che ho disponibile tranne chiaramente 15 cm che sono già occupati della prima piastrella nera quella lì la tengo a parte ciò che rimane quindi sono 3,20 meno 0,15 perché c'è già messo una piastrella nera rimangono 3,05 ecco guardate l'approssimazione maledetta non è proprio 3,05 3,05 e poi ci sono dei decimali là in fondo che sono dovuti al fatto che i floating point non sono mai esatti va bene quindi ho 3,05 che è la larghezza della parete che rimane tolta la prima piastrella nera a questo punto questo 3,05 diciamo che ci metterò tante coppie bianco nero bianco nero bianco nero che sono lunga ciascuna ciascuna coppia sarà 15 più 15 30 centimetri quindi avrò 3,05 diviso 0,3 che mi fa 10 10 cosa? 10 coppie e allora a questo punto avrò 10 coppie di piastrelle il che vuol dire 10 piastrelle bianche e 11 nere perché sono nelle 10 coppie di piastrelle ci sono 10 piastrelle nere oltre le 10 bianche più una che dobbiamo aggiungere da parte questo si può risolvere in tanti modi le slide suggerivano il libro suggeriva di provare a pensare in modo diverso e non pensare solamente alla singola piastrella facendo i conti ma pensare magari a un modo di comporre la soluzione diverso che poi la rende più semplice perché in realtà questa cosa qua non devo posare delle piastrelle devo posare un modulo che è sempre uguale di piastrelle bianco nero bianco nero bianco nero allora come commento io posso dire la disposizione sarà questa sarà questa e quindi diciamo così la prima piastrella è sempre nera è sempre nera poi rimane poi rimane uno spazio uno spazio pari pari a e a questo punto lo posso scrivere spazio rimanente uguale parete meno lato piastrella e così ho definito una variabile che forse è più esplicita nella istruzione successiva questo è un lavoro puramente di leggibilità i calcoli che faccio sono sempre gli stessi però non possiamo scrivere delle espressioni troppo complicate perché altrimenti dopo un po' ci perdiamo su quali siano i significati di questa espressione quando poi magari il programma non funziona dobbiamo fare debugging dobbiamo capire cosa non funziona e quindi in questo caso ho introdotto una variabile intermedia semplicemente per rendere più chiara l'espressione di prima perché se non si capiva cosa parete meno lato piastrella allora gli ho dato un nome essenzialmente e ho spiegato perché ok ma l'ordine dell'operazione è sempre lo stesso prima l'ho capito io e poi lo codifico in modo che sia chiaro l'ho capito l'ho capito in uno dei modi possibili perché come vi dicevo questo si può risolvere in 30 modi diversi molte delle cose che state scrivendo delle proposte che state scrivendo sono valide sono modi diversi di risolvere lo stesso esercizio ovviamente alcuni non sono giusti ma altri sì e quindi a questo punto lo spazio rimanente è questo lo spazio rimanente diviso per le coppie di piastrelle e quindi a questo punto spieghiamo perché c'è un 2 lo spazio rimanente va riempito con coppie di piastrelle bianco nera a questo punto il numero di piastrelle lo so sarà uguale a una che è la nera più il doppio del numero di coppie e questa è la prima risposta quindi potrò già dire qua print mi servono quante non piastrelle piastrelle virgola di cui numero di coppie bianche e virgola fatemi andare a capo perché non mi sta tutto si può andare a capo dentro le parentesi tonde bianche e num coppie più 1 nere mi servono 8 piastrelle di cui quindi qui sarà il numero mi servono 10 piastrelle 11 no quant'era 21 piastrelle di cui 10 bianche e 10 più 1 11 nere questo dovrebbe venire fuori proviamolo lo proviamo anche se non è finito appena abbiamo un pezzettino che fa qualcosa proviamolo subito così vediamo se funziona quel pezzettino possiamo andare avanti tranquilli che quel pezzettino lì è corretto se non funziona prima di andare avanti fare ulteriori danni e costruire cose sbagliate su qualcosa che è già sbagliato è meglio correggere subito questa parte quindi abbiate sempre fretta di provare il programma appena scrivete 4-5 istruzioni le provate funzionano? sì allora andiamo avanti altrimenti ci fermiamo lì e le correggiamo non fate mai l'errore di scrivere 200 righe di programma e poi alla fine adesso proviamo a farlo funzionare la risposta è non funzionerà di sicuro ok allora lo eseguo lui mi dice mi servono 21 piastrelle di cui 10 bianche e 11 nere con questi numeri era quello che volevamo se io mettessi 3,10 che era l'altro test che avevamo fatto e facessi il run con questo dato mi dirà che mi servono 19 piastrelle di cui 9 bianche e 10 nere che anche qua era il valore corretto secondo i calcoli che si erano fatti prima a mano ovviamente se non lo sappiamo fare a mano non sapremo mai valutare se quel numero lì che salta fuori è corretto oppure sbagliato lo spazio rimanente è l'ultima cosa poi vi lascio andare a pranzo ma a questo punto è facile perché lo spazio rimanente è lo spazio totale altro non è che la lunghezza della parete parete meno la dimensione totale occupata dalle piastrelle quindi il lato piastrella moltiplicato il numero di piastrelle ovviamente lo spazio per lato è uguale alla metà dello spazio totale ma questo e quindi dovrò ancora stampare devi lasciare lasciare spazio per lato per cento perché lo voglio stampare centimetri ad esempio centimetri ad ogni lato e quindi riproviamo a eseguire questo mi servono 19 piastrelle di cui 19 bianche e 10 nere e devi lasciare 12,5 centimetri ad ogni lato questo nel caso della parete da 3,10 nel caso della parete da 3,20 lo rieseggo mi dirà che invece mi servono due piastrelle di cui 10 bianche e 10 nere devi lasciare 2,5 centimetri da ogni lato e speriamo che il piastrellista non impazzisca per spostare di 4 atomi la piastrella perché vede che ci sono queste cifre intorno alla 10 alla meno 15 che gli danno fastidio ok quindi questo alla fine è il nostro programmino completo adesso poi ovviamente ve lo pubblico sul sito Emanuele dice che si posa il round per non avere tutte quelle cifre sicuramente è possibile sì magari possiamo a questo punto il round lo arrotondiamo a due cifre e quindi se lo rieseguo esatto oltre la seconda cifra la seconda cifra sarebbe uno di zero quindi non me la fa vedere molto la seconda cifra l'ha ripulito questo è puramente estetico perché chiaramente dice a quale precisione voglio calcolare il risultato e lo arrotondo rispetto al risultato che lui ha calcolato al suo interno con la massima precisione possibile ma ovviamente con l'errore che introduce sicuramente questo lo aggiungo ai materiali sì sì assolutamente è una regola diciamo come regola generale gli esercizi che facciamo insieme poi a fine lezione faccio uno zip e ve li carico sul portale così ve li potete guardare con calma domande dell'ultimo minuto allora la cosa che vorrei che fosse importante abbiamo fatto questo esercizio in poco tempo tutto sommato quindi ho spinto abbastanza per una soluzione che è quella che poi trovate sulle slide anche se chiamo le variabili in modo leggermente diverso ma il concetto è lo stesso quello che vorrei che fosse chiaro è che non è l'unica soluzione possibile non ho detto che sia la migliore soluzione possibile nella chat avete cominciato a buttare alcune idee e quindi magari questo lo si può riprendere e potete provare a farlo in modi diversi e lo possiamo confrontare l'importante è che tutte le soluzioni che si possono essere fatte anche in modi molto diversi non tantissimi però in modi abbastanza diversi alla fine devono dare gli stessi risultati vuol dire che sono tante soluzioni diverse tutte corrette allo stesso problema qua ovviamente non abbiamo dei controlli cosa succede se qualcuno mette zero come lato della piastrella se qualcuno mette meno sette come dimensione della parete per ragioni di tempo non abbiamo fatto tutti questi controlli che invece in un caso reale dovremmo fare usare int è equivalente a troncare chiede Christian sì per i numeri positivi usare int usare tronc mat.trunk è la stessa cosa per i numeri negativi invece int arrotonda sempre verso zero e quindi nel caso di un numero negativo arrotonda a salire mentre trunk arrotonda sempre verso meno infinito allora la formula di Jacopo sì ve la racconto Jacopo dice questa formula qui che ha usato proposto nel codice dice che cosa fa questa formula qua allora se io ho un numero sette diviso due come divisione intera mi dà tre ok se io se io prendessi un numero pari come sei e lo dividessi come divisione intera ovviamente se sono un numero pari scusate sei come divisione intera mi darebbe tre allora quello che succede è che se io ho un numero sette divisione intera per due e poi rimoltiplico per due ritorno al numero di partenza se il numero di partenza era pari ritorno al numero di partenza meno uno se il numero di partenza era dispari vedete che sei divisione intera per due risultato moltiplicato per due fa tre per due sei sette divisione intera per due fa tre per due fa sei quindi in entrambi i casi è un modo per dire se il numero è dispari tolgo uno se il numero è pari lo lascio così com'è poi c'è giunto il più uno perché voleva la piastrella in più chiaramente una formula scritta così senza documentazione senza un buon commento sarebbe una cosa tipicamente criptica cioè il programma magari funziona quando lo vai a rileggere dici ma che cavolo sta facendo in questo punto poi perfettamente lecito magari chi è abituato a un certo tipo di arimetica lo riconosce abbastanza in fretta che cosa sta facendo ma la cosa importante è sempre riuscire a essere sicuri che il programma sta facendo la cosa giusta che abbiamo capito in mente noi e nel momento lo riconcorro una volta sarà l'ultima di oggi ma non è l'ultima in generale nel momento in cui lo scrivete avete chiaro cosa state facendo il giorno dopo vi sembrerà schifetta scritta sul muro e dice ma chi ha scritto sta roba qua ah sono stato io e cosa volevo fare in quel momento boh boh perché sei uscito dal ragionamento profondo che avevi dalla concentrazione che avevi e devi riprendere la concentrazione se quando sei concentrato sai cosa stai facendo ci scrivi una riga di commento il giorno dopo magari non ricapisci più la formula ma leggendo il commento dici ah già avevo fatto questo ok va bene allora andiamo avanti a fare la parte successiva ok quindi con questo riusciamo già a fare anche diciamo gli esercizi che vedremo la settimana prossima in laboratorio che hanno a che fare con il variabile di tipo numerico dobbiamo poi ancora aggiungere ma questo appunto lo aggiungeremo lunedì la manipolazione delle stringhe che diciamo così dal punto di vista delle operazioni matematiche ci posso fare ben poco però faccio operazioni diciamo così di accesso ai caratteri al testo che sta dentro e quindi sono altre tipologie di esercizi che sono diciamo così proiettate sul laboratorio che faremo il 15 per ora ci fermiamo qua allora ci rivediamo giovedì invece in laboratorio dove lavoreremo soprattutto sui diagrammi di flusso e vedrete che se guardate il testo dopo i diagrammi di flusso ci sono sui diagrammi di flusso ci sono degli esercizi proposti per casa dove vi chiediamo di fare dei piccoli programmini di questo genere qua quindi quando siete stufi di disegnare diagrammi di flusso potrete divertirvi con un po' di programmini e con questo mi scuso per il ritardo ma è colpa del portale che all'inizio ci ha fatto ritardare dieci minuti vi saluto e ci vediamo tutti giovedì buon appetito a tutti arrivederci grazie a tutti